Ora vi dico una cosa che sanno in pochi, i nativi digitali non conoscono bene il digitale, i nativi digitali conoscono pochissimo digitale, solo lo strato superiore, solo l'interfaccia, la carrozzeria delle automobili non hanno la più pallida idea di che cosa ci sia dentro, non hanno mai aperto un cofano di solito. Il nativo digitale è quello che si fa fregare di più, questa è altra cosa poco nota, in Inghilterra il 20% tra i 16 e i 34 anni è finito in truffe, phishing digitali e vali, mentre solo il 4% tra i 35 anni in su è finito in quelle truffe, perché? Perché in fondo sono dinamiche che replicano certi meccanismi tipici della vita. Il fatto di saper andare veloci nella tastiera è solo una questione di essere, aver avuto più tempo per farlo, aver incominciato prima e quindi avere più dimestichezza apparente, che non ha niente a che fare poi con la conoscenza di quello che c'è dietro. Per non parlare poi anche delle generazioni, ci sono persone che sono nate già col digitale e che oggi hanno una certa età, che non sono quelli come me, insomma siamo meno evidentemente, ma dai boomer in poi, cioè boomer esclusi evidentemente, e ci sono tanti nativi digitali in giro, che hanno oggi 55 anni, perché avevano a dieci anni i primi computer che programmavano, i primi personal, perché sono arrivati in quegli anni, nel 1980. Quindi i nativi digitali sono diversi da quello che si pensa. I nativi digitali si ritiene che siano quelli che hanno meno bisogno di cultura di alfabetizzazione paradossalmente digitale, ma nell'alfabetizzazione digitale c'è anche, come dire, la conoscenza di come funzionano le cose, del perché non va bene che ti rubino i dati, del come ti rubino i dati, di come ti sfruttano, di come molte piattaforme utilizzino i giovani per portarsi via un grande valore che loro hanno in cambio di alcuni servizi gratuiti e così via. Delle truffe, le dinamiche, come funzionano, eccetera, se tu chiedi ad un nativo apparentemente digitale di spiegarti la differenza tra internet e web, sapete che non la conosci, ho visto tra l'altro anche influencer che parlano di digitale, che fanno le recensioni di device, eccetera, che confondono internet con web, che confondono altre tecnologie, che confondono i 360 con la stereotopia, le immagini stereografiche, cioè si fa proprio, fanno fatica, si vede, sono entusiasti, ma manca proprio la competenza e magari invece uno più anziano invece può avere, dalle statistiche dicono questo, più capacità, ad esempio, di riconoscere alcune cose che assolutamente alcuni nativi non vedono. Per cui, occhio, lo vedo che molti giornalisti ne parlano con, lo danno per scontato, che i nativi digitali invece ne sappiano gli anziani, no, non è così. Peraltro questo fa male pure alla percezione dei meno giovani e degli anziani, perché fa sì che loro abbiano paura, si sentano inadeguati. Ad esempio sono tantissimi gli anziani che con serenità utilizzano internet per fare la spesa, in quanto hanno ovviamente più problemi di mobilità e non hanno alcun problema a farlo. In Italia vedo che c'è un blocco più psicologico che pratico, perché in fondo, come dire, quando una cosa funziona è facile. Avanti, ok. Spesso non è avanti, ok. Spesso è molto complessa e poco usabile. E l'insieme delle due cose, il convincerli che i nativi digitali sono bravi e loro no, e l'inusabilità di alcune piattaforme in lingua, fanno sì che si alimenti questa credenza che è profondamente sbagliata.